Buon pomeriggio, vi parlerò degli ultimi due aspetti che comporranno il vostro test, la cultura generale e la comprensione verbale, che sono anche i due aspetti meno definibili e per certi versi più problematici. Partiamo dalla comprensione verbale, che forse ci porta via un po' più di tempo. In che cosa consiste? Consiste nel riuscire, insomma le finalità sono di dimostrare che voi sappiate leggere un testo e da questo testo costruire un ragionamento che vi porti a rispondere alla domanda. Poi ne vediamo alcune e discutiamo su come, insomma vi do qualche indicazione su come affrontare questo tipo di richieste. Un testo, le domande possono essere sul contenuto generale, sull'opinione degli autori, su deduzioni logiche che voi potete trarre da questo testo. Ma io volevo farvi un discorso di questo tipo, per riuscire a comprendere un testo bisognerebbe capire che cosa è un testo, come è fatto un testo. Magari vi darò notizie che vi sono note, la mia esperienza mi dice che non sono così note, per cui cerchiamo di capire cosa vuol dire, cosa è un testo. Già l'etimologia della parola dovrebbe aiutarvi in qualche modo. Testo arriva da textus, che vuol dire tessuto, che vuol dire legato insieme. Un testo, se non è intrecciato, non è un testo. Poi vi farò degli esempi che inventerò, magari anche stupidi, ma capirete cosa voglio dire. Allora ci sono fondamentalmente, a volte ci sono tipologie diverse di testi. I testi possono essere narrativi, informativi, argomentativi. Tendenzialmente affronterete testi argomentativi, cioè quelli che vengono chiamati saggi. Ovvio che non affrontate un saggio intero, affrontate un pezzettino di saggio, che però rispecchia tutte le caratteristiche di un testo. Una porzione di testo che rispetti le quattro caratteristiche fondamentali di un testo, che sono l'unità, la completezza, la coerenza e la coesione. Non so se questi quattro termini vi aprono delle parentesi di conoscenza, vediamo di fare chiarezza. Unità cosa vuol dire? Il testo svolge un tema di fondo, uno solo, che può essere articolato in sottotemi, ma fondamentalmente è un tema solo, e lo deve svolgere in modo completo, cioè deve dirvi tutto quello che serve perché il discorso sia completo. Il tema di fondo, che è la tesi, può essere di solito articolata in più temi secondari che sono gli argomenti, ma i temi secondari concorrono a definire e a realizzare il tema di fondo. Di solito, questo tema di solito non vuol dire sempre, ci sono degli esempi. Suonò il campanello e Carlo aprì la porta. Sto seguendo un ordine naturale, suona il campanello e apro la porta. Ma la stessa cosa io posso dirvela anche, Carlo aprì la porta poiché qualcuno, o perché qualcuno, ha suonato il campanello. L'ordine non è più naturale, l'ordine è artificiale, ma il concetto è lo stesso. Quindi nella strutturazione degli elementi della frase, del testo, voi potete avere un ordine naturale e quindi all'inizio viene dichiarato il tema di fondo e poi lo svolgimento dei sottotemi, chiamiamoli così, degli argomenti che concorrono a definire il tema di fondo. Potrebbe anche non essere così, uno potrebbe presentare gli argomenti e poi dedurne il tema di fondo. Se vi viene presentato il tema di fondo all'inizio lo trovate nelle prime frasi, nei primi enunciati del testo e poi dopo trovate l'articolazione dei temi secondari. Se invece non vi è enunciato o lo dovete desumere voi, vi si possa andare soltanto, ma questo significa non trattarvi troppo bene, dovete fare voi un'inferenza, io vi do soltanto gli argomenti e vi chiedo, viste questa successione di temi secondari, qual è il tema di fondo? Dovete semplicemente mettere insieme i sotto argomenti. Che è la famosa strutturazione in paragrafi? Ogni capoverso, capoverso meglio, ciò che sta tra un a capo e un altro a capo svolge un argomento unico. Andate a capo quando cambiate argomento. Quindi quando voi leggete un testo dovete badare a dove cambia argomento, poi faremo altri esempi. Questo vuol dire l'unitarietà del testo. La completezza del testo ce l'avete perché quello che il testo vi dice è tutto necessario per svolgere il tema di fondo. Deve essere completo, se no non è completo. Quindi voi vi troverete dei brani più o meno lunghi, ma questo al di là del testo, insomma in generale ogni volta che leggete un saggio, arrivate in fondo al di là della lunghezza e il discorso deve essere svolto nella sua completezza, perché se no il testo non sta in piedi. Gli altri due aspetti sono molto più utili di questi due, queste due cose che vi ho detto sono abbastanza ovvie, magari non ci avete mai fatto una riflessione sopra, però sono abbastanza ovvie. La coerenza e la coesione. È chiaro che se io dico mi piace il sapore della marmellata, vado avanti a discutere alcune cose e poi vi dico non l'ho mai assaggiata, sto dicendo una scemenza. Il testo di per sé sembra un testo, però pecca di coerenza. Gli enunciati tra di loro devono essere coerenti ed è dalla coerenza della successione degli enunciati che voi desumete l'idea di fondo. Se manca coerenza non potete minimamente capire cosa sta succedendo. E anche questo è abbastanza evidente. Invece, ripeto, la mia esperienza su questo terzo punto, quarto punto su cui mi dilungherò un po' di più, mi dice che quando scrivete o quando leggete tendete a sottovalutare gli aspetti che in realtà sono fondamentali, cioè la coesione. La coesione è tutto quello che amalgama le vostre idee. Vi faccio un esempio. Perdonate la stupidità ma ve lo invento qui. Mangio la torta, mia nonna è caduta, il cane abbaia, domani spero ci sia il sole, non ho l'ombrello. Vi sembra un testo? No, neanche a me. Sono cinque enunciati anche brutti. Trasformiamo questa follia in un testo. Mangio la torta perché mia nonna è caduta e io non la sopporto. Il cane abbaia perché mi vede mangiare la torta e ne vuole un po' anche lui, ma io non gliene do. Però domani, per non trattarlo male, lo porterò a fare un giro al parco sperando che non piova perché non ho l'ombrello. È diventato un testo? Ok. Che cosa ho fatto? Ho utilizzato congiunzioni, pronomi, nessi subordinanti, ho utilizzato anche ellissi, cioè ho eliminato dei termini che però, oppure meglio, prima dell'ellissi, ho ripetuto alcuni termini, cioè ho utilizzato un procedimento anaforico, ripetizione della stessa parola, ho eliminato la stessa parola, cioè l'ellissi, che stranamente sembra un paradosso, che in realtà non è così, che ci permette di collegare una parte ad un'altra. Allora, cominciate a capire di che cosa vi sto dicendo e riuscite anche a capire il perché di alcuni collegamenti. Cioè mangio la torta perché mia nonna è caduta, sembra una follia, però siccome vi ho detto che è la causa per cui io mangio la torta, siccome però vi ho detto che a me mia nonna non sta simpatica, la frase assume senso, non diventa incoerente. Ho dovuto dare coerenza a questa cosa, a meno che io non sia Hannibal Lecter, non è che provo piacere se mia nonna cade. Ho dovuto giustificarvi il fatto che mia nonna, il rapporto con mia nonna non era così ottimo. Non ve lo dico, ma io potrei chiedervi a questo punto, vediamo se hanno capito. Perché faccio una festa? Oppure perché faccio una festa perché mia nonna è caduta? O meglio, qual è il rapporto del protagonista con la nonna? Evidentemente la risposta è negativa. Cioè si attivano livelli diversi. È fondamentale la partecipazione del lettore a decodificare il messaggio. E si chiama appunto, in termini tecnico, decodifica. Cioè voi dovete leggere il testo e trarre delle deduzioni logiche da quello che vi viene detto. Se sbagliate la deduzione il testo non ha senso. Poi vado avanti a ragionare su questo, ma un esempio di quello che sto dicendo carino, che faccio spesso ai miei studenti. Non l'ho inventato io purtroppo. Se vi dico questa breve definizione, amico dei semplici. Voi cosa capite che vi ho chi sono? Sono un amico dei semplici. Rispondete? Tanto sbaglierete. Perfetto. Lui ha applicato la sua enciclopedia, le sue conoscenze, dice semplice che in questo caso diventa un sostantivo. Le persone semplici penserà che io sia uno dedito al volontario dotato di grande umanità e mi occupo di persone deboli. Che è possibile. Io però vi dico che non intendevo quello. Perché io faccio l'erborista. E uno dice, cosa mi sta dicendo? In erboristeria non ci vanno solo i semplici a cui alludeva il vostro compagno. Anzi, allora bisogna sapere che il sostantivo semplici, bisogna sapere, è un esempio per farvi capire che bisogna stare attenti. Semplici indicano, indica le erbe medicinali. Negli orti medievali le erbe utilizzate per curare, mi sentite? Le erbe per curare le persone si chiamavano semplici. Quindi amico dei semplici è una persona che si occupa di piante medicinali e quindi un erborista. Capite che c'è una bella differenza. Ora, il linguaggio, le parole, le espressioni sono tendenzialmente ambigue. Se volete un altro esempio, insomma, anche in inglese, they are flying planes. Vuol dire ci sono aerei che volano o vuol dire stanno facendo volare aerei. Cambia ciò che è soggetto e ciò che è complemento oggetto. Questi esempi, se ne volete qualcun altro, insomma, quel cane del tenore continua ad abbaiare. Come è interpretabile? Ormai avete capito qual è il gioco. Quindi che il tenore fa schifo e io non riesco a studiare perché si esercita e canta come un cane e quindi disturba e quindi quel cane del tenore, cane diventa attributo del tenore, non diventa più sostantivo di cui il tenore è il possessore. Oppure poteva anche voler dire che il tenore è un cane e questo cane abbaia. Voi dite, vabbè, come ne vengo fuori da questa situazione? Eh, ne vengo fuori in due modi. Ogni frase, ogni parola ha senso dentro al suo contesto. Per cui davanti a un brano voi dovete per forza desumere il significato di questa parola dal contesto in cui è inserita. È chiaro? Vabbè, non è così ovvio che si sappia che cos'è un semplice nell'accezione che vi ho detto prima. Ma è chiaro che se sto parlando di farmacisti, di costruzione di farmaci naturali, di prodotti bio e vi trovate espressione così metaforica amico dei semplici, non vi viene in mente quello che diceva il vostro collega. Vi direte, che cavolo è sta roba? Per cui prendete un dizionario, trovate la definizione e dite, ah ecco, il contesto è fondamentale per definire le parole. La lingua italiana, come ogni altra lingua, è polisemica, cioè ogni parola significa più, ha più significati. E allora io devo, ecco dove sta la cooperazione del lettore per desumere un testo. Io ho bisogno all'interno di quel contesto lì di definire qual è il significato esatto di un termine. È chiaro che ci si aiuta però con tutti gli altri elementi che dicevamo prima. Quando io ho detto, ho mangiato la torta perché mia nonna è caduta e io non la sopporto, quel la lì, che è un pronome, è evidentemente, a cosa può essere riferito? Voi sapete che i pronomi possono richiamare qualcosa che sta prima, anticipare qualcosa che viene dopo o fare riferimento a tutta una frase che sta prima. Maria è andata in vacanza ma io non lo sapevo. Quello lì è il complemento oggetto di non sapevo, non sapevo lo. Però essendo pronome rimanda a che cosa? A tutta la frase che sta prima. Maria è andata in vacanza. Quindi l'antecedente di un pronome può essere una parola o un'intera frase. Se invece il pronome sta prima vuol dire che mi anticipa qualcosa che viene dopo. Ma è fondamentale per capire un testo. Allora a che cosa è riferito nella mia stupida invenzione? Quel non la sopportavo. È un pronome femminile, potrebbe essere riferito a torta o a nonna. Ma non ha molto senso che sia riferita a torta perché la logica, cioè la coerenza, quindi avete capito che la coerenza è un fatto di logica, di contenuto e la coesione è un fatto linguistico. La logica mi dice che se mi hai appena detto che mangi la torta è improbabile che tu mi dica che non la sopporti, la torta. È anche vero che il termine sopportare può essere riferito a un cibo. Non è così usuale ma si può dire non sopporto il pesto. Si può dire e quindi non lo mangio. Ma se prima ho detto che mangio la torta per festeggiare la caduta della nonna è evidente quel pronome lì è riferito alla nonna. Mentre dopo ho aggiunto che il cane abbaiava ma io non gliene do un po'. È chiaro che quel ne lì non può essere riferito alla nonna, sarebbe eccessivamente crudele. Quindi il ne rimanda di nuovo alla torta. Sembra una sciocchezza però guardate che è solo in questo modo che riuscite a capire come è fatto un testo. Questo non è un testo argomentativo. Un testo argomentativo dovete badare di più ai nessi, quelli che sono le congiunzioni coordinanti o subordinanti e al loro valore. perché da lì capite se la frase che state leggendo è esplicativa rispetto a quello che vi ha detto, avversativa quindi vuol dire che il concetto che vi pone è in opposizione a quello di prima, se è causale. Un testo argomentativo funziona di nessi causa-effetto. Al di là dell'ordine in cui vengono posti. È vero che nell'azione la causa sta sempre prima dell'azione principale e lo scopo sta sempre dopo, ma io vi ho detto che l'ordine può essere naturale o artificiale. Non cambia ciò che è causa e ciò che è fine. suona il campanello e apro la porta. Nella logica dei fatti, prima suona il campanello e poi apro la porta. Che io vi dica, l'ordine naturale o l'ordine artificiale, ciò che è causa è causa e ciò che è effetto è effetto. Quindi dovete stare molto attenti ai nessi di collegamento tra un enunciato, una frase e l'altra. Sapendo anche che i nessi di collegamento possono funzionare a grande distanza, non necessariamente vicino. Anzi, nei testi argomentativi tendenzialmente li trovate così. Baudelaire articola la critica alla fotografia in tre motivi. Il primo, il secondo, il terzo motivo. Primo, secondo e terzo sono elementi a distanza che però rimandano tutti ai tre motivi che avete là in alto. Tant'è che potrei anche non dirvi il primo motivo e dirvi subito che cos'è. Poi vi dico il secondo motivo e allora, rimando là, voi avete capito che qui comincia il secondo, ma il primo ve l'ho già detto se vi ho detto che questo è il secondo. Oppure, come abbiamo già detto, rimanda a qualcosa detto molto prima, che può essere lì vicino o molto distante, dipende dalla lunghezza del testo, ma sono tutti legami di coesione del testo. Si chiamano segnali del già noto. I segnali del già noto sono anche molto minimi. Le concordanze sono segnali del già noto. Vedremo un testo che comincia così, se la mia memoria non è totalmente andata. La metafora è considerata. La concordanza, voi dite, vabbè, ovvio che è così, mica sbaglio. Certo, però attenzione, vuol dire che quel considerata lì è concordato con metafora e svolge qualcosa sulla metafora. Se vi voglio parlare di qualcos'altro, non lo concordo con il femminile. Chiaro? Dovete starci attenti. Un'altra cosa a cui badate poi, adesso vi do delle informazioni così, perché voglio che poi vi dico di andare a vedere qualcosa su qualche manuale. Perché noi parliamo, e a volte, magari voi siete bravissimi, però insomma non lo so, tendenzialmente scriviamo un po' come parliamo. E esattamente non dovrebbe essere così. Quindi questi meccanismi ci sono noti, ma magari non ci avete, anzi a volte qualcuno di voi sta pensando che cosa mi sta raccontando questo. Però qualcun altro dice non ci ho mai fatto caso. E invece dovete farci caso, dovete avere consapevolezza su ogni cosa che fate. Se no non riuscite a leggere. Una cosa a cui badate poco, ma guardate che l'alternanza tra articolo indeterminativo e articolo determinativo è fondamentale. L'articolo indeterminativo è? Un, uno, una. E gli articoli determinativi, il, lo, la e quant'altro. Quando è che si usa uno e quando è che si usa l'altro? L'articolo determinativo è un segnale del già noto. Lo uso quando vi indico, guardate che quella cosa lì l'ho già utilizzata. Altro esempio cretino, ma non l'ho inventato io. Un vaso di fiori è caduto su un passante. Il vaso di fiori non si è rotto, ma il passante è finito in ospedale. Vedete che ho alternato l'articolo indeterminativo all'articolo determinativo. Nel primo enunciato era la prima volta che incontravamo quegli elementi e ho usato un, un. Nel secondo enunciato, siccome sono diventati segnali del già noto, vi sto dicendo quel vaso di fiori che prima non conoscevo è diventato il vaso di fiori e quel passante che prima non conoscevo è diventato il passante. Ma la frase un vaso di fiori è caduto su un passante, un vaso di fiori si sa non è una piuma e un passante non va in giro con l'elmetto, così il vaso di fiori non si è rotto e il passante è andato all'ospedale. Sono la stessa cosa? No. Intuitivamente mi dite di no. Perché? Benissimo. Il secondo enunciato è di nuovo all'articolo indeterminativo, brava, perché fa riferimento non al vaso di cui vi ho detto, ma a una categoria più generale, più ampia. Quindi il terzo enunciato si ricollega al primo, il secondo che è di nuovo con gli articoli indeterminativi e si ne sta per conto suo a fare una categoria generale. Tant'è che in un ordine più corretto, ma non in logico, uno avrebbe detto un vaso di fiori non è una piuma, un passante non deve andare in giro con un elmetto. Un vaso di fiori è caduto su un passante, il vaso di fiori non si è rotto, questo sarebbe stato un ordine molto più naturale. Però c'è anche un minimo di creatività nello scrivere anche i saggi e quindi bisogna individuarli. Un'ultima cosa prima di passare a vedere qualche esempio. Un altro importante elemento di coesione sono le parole. Tenete presente che ci sono... Le parole in un brano non vengono scelte a caso. Si organizzano quelli che vengono chiamati campi semantici, cioè la scelta di una serie di termini che stanno dentro allo stesso argomento più grande. Se io ipotizzo un campo semantico, che ne so, degli alberi, vi troverete lì parole che implicano nomi di alberi, pioppi, abeti, ma anche ramo, anche foglia, anche, in quel caso lì, nido, anche bosco, anche foresta. Cioè si crea un campo semantico. Ogni testo è organizzato in campi semantici, dipende da quanto sia lungo, ce ne possono essere uno o di più. Questo vi aiuta a capire qual è l'argomento di fondo e di che cosa si sta parlando. All'interno di questo campo semantico ci sono alcune parole che possono esserci, alcune parole che sono più importanti di altre, si chiamano parole chiave. Aggrappandovi a quelle, capite il senso. Aggrappandovi agli elementi di coesione, le congiunzioni in essi di causa-effetto, di finale, di esplicazione, di conclusione, capite lo svolgesi del ragionamento. Queste cose le potete trovare, dipende a che livello siete, a che livello volete collocarvi, però in manuali del biennio decenti, e per decenti intendo, per esempio, la grammatica di Francesco Sabatini o anche la grammatica di Marcello Sensini, trovate dei capitoli che tendenzialmente si chiamano leggere, comprendere, piuttosto che scrivere, dipende, possono averli collocati in entrambi. E lì si svolge questo discorso. Sulla grammatica del Sabatini è fatto molto bene. avete anche in dettaglio e con tutta una serie, non sono infinite pagine, saranno una cinquantina di pagine che però vi possono essere utili. Esercitarvi su eserciziari che sono in commercio, sulla comprensione verbale, può anche avere un minimo di senso, tanto vi allenate. non ha molto senso esercitarvi sulla cultura generale, le domande che posso eserciziare sono infinite. Esercitarvi però sulla commissione generale potete farlo, però fatelo dopo aver preso coscienza di come è fatto un testo. Oppure, quando scrivete o quando leggete il prossimo saggio che vi capiterà sotto mano, richiamate alla mente qualcosa di quello che vi ho detto. Vi risulterà più utile capire che cosa state leggendo. Vediamo qualche esempio a meno che non abbiate delle domande. Negli scritti autobiografici, letterari e scientifici di Goethe, l'uomo nato per vedere, troviamo esposta una vera e propria teoria della visione, compendiata da puntuali indicazioni metodologiche sull'educazione dello sguardo in riferimento a diversi ambiti operativi, quindi diversificata per esperienze e per finalità. La teoria di Goethe è particolarmente significativa e preziosa perché sintetizza e modula tre specifici e differenti modi di vedere. Il modo di vedere del poeta, quello del pittore e quello dello scienziato che a volte si alternano, altre volte si integrano, in altri casi ancora uno subordina gli altri due. Al di là di leggere il quesito e rispondere, applichiamo qualcosa di quello che abbiamo detto prima e partiamo dal campo semantico. Avete, vedere, vedere, visione, sguardo, vedere, vedere, quello che è un pronome e sostituisce modo di vedere, quello che a volte si alternano, sottintende il soggetto, ma sono i tre modi di vedere. Altre volte si integrano, in altri casi ancora uno subordino gli altri due. Di che cosa vi starà parlando a sto punto? Del modo di vedere. Eh? E che cosa vi ha detto? Che ce ne sono? Tre. A sto punto rispondere a quale delle seguenti affermazioni è in accordo col testo? La domanda è strana. Non vi sta dicendo nulla che potete ritrovare nel testo, dovete leggere il testo, desumerne un senso, ma fatta un'operazione di lettura tranquilla del testo, è abbastanza ovvio che la risposta giusta è E? La A, evidentemente. Vi sono diversi modi di vedere, ma ognuno di loro contribuisce a una teoria unitaria della visione. La parola teoria la trovate altre tre o quattro volte, quindi fa una teoria della visione. Non andiamo neanche a leggere le altre, però se volete, perché così capite in sostanza, il mio consiglio davanti a un, per la comprensione del testo, non so se posso darlo, ma io ve lo do lo stesso, è leggete prima la domanda, non le opzioni di risposta, non servono, leggete prima la domanda. Attenzione però, non pensiate che chi formula il test sia un totale stordito e che quindi vi utilizza le stesse parole che trovate nel testo, questo no. Quindi leggete la domanda per capire che cosa è che dovete andare a cercare nel testo, non fate quell'operazione che magari qualcuno vi consiglia di vai a cercare le stesse parole e cerca di, no, non funziona così, d'accordo? si va di sinonimi, anzi, si cerca tendenzialmente di non utilizzare le stesse persone, insomma, le stesse parole, dovete costruire un minimo di ragionamento sul testo che leggete, dovete capirlo e costruirci un minimo di ragionamento. Però, la domanda vi aiuta, guardiamo l'esempio successivo. Se io leggo la domanda, qual è la tesi espressa dagli autori in questo brano? Vado a leggere il brano e trovo la metafora è da molti considerata come. Poi andate avanti e qualcun altro dice per questa ragione molti pensano di e poi trovate noi abbiamo invece trovato. Dov'è che vado a cercare la risposta alla domanda? Da noi in avanti. Avete ridotto della metà del brano? Perché sapete che vi sta chiedendo cosa ne pensano gli autori e non cosa ne pensano gli altri? Vi avesse chiesto cosa pensano gli altri in opposizione agli autori? Allora andavate a cercare la risposta di sopra. A sto punto abbiamo trovato che la metafora è diffusa ovunque nel linguaggio quotidiano e non solo nel linguaggio ma anche nel pensiero e nell'azione il nostro comune sistema concettuale in base al quale pensiamo e agiamo essenzialmente in natura metaforica in sostanza la metafora è un processo mentale di cui ci serviamo anche incontrapevolmente nella formulazione dei pensieri e qui vi ha aiutato il fatto che ci sia noi abbiamo invece 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 opposizione a tutto quello che ha detto prima quindi quelli invece lì vi dice ci sono due parti una che si oppone all'altra che cosa mi chiede quella di sopra o quella di sotto ma è invece che mi dice che si stacca lì e anche il fatto che l'ha detto è da molti e poi dopo dice noi invece pensiamo che vedete che le cose che vi dicevo prima poi operativamente in qualche modo le trovate banalmente è da molti considerata considerata concordato con metafora e poi va avanti qui è sottinteso come uno strumento un artificio sempre alla metafora qualcosa qualcosa insomma generalizza che ha più a che vedere con che con ecco in essi correlativi più che con più con che con quindi correla e collega una parte all'altra non solo rispetto a prima vuol dire che vi sta aggiungendo qualcos'altro vi dico una cosa e poi ve ne dico un'altra non solo che potevo anche sostituirlo con e inoltre in più ed anche ma vuol dire sempre la stessa cosa una cosa più un'altra passerei se alla cultura generale definire la cultura generale non è semplice diciamo definiamola per esclusione il vostro corso di studi è tutto quello che non è matematica scienze fisica chimica storia dell'arte grosso modo insomma quello che potete due ambiti quello che avete imparato che imparerete in letteratura italiana letteratura inglese letteratura latina storia filosofia greco per chi di voi del classico tedesco per chi arriva dal linguistico insomma tutta quella parte educazione civica storia quella parte che copre la le discipline umanistiche più una parte che era anche quello che vi diceva la professoressa prima di me quello che siete voi quello che sapete del mondo che vi circonda andrete al cinema vedrete ascolterete musica andrete a qualche mostro utilizzate degli strumenti vivete nella contemporaneità adesso al di là di informarsi tra il quotidiano il blog o quello che vi pare ma non siete delle bolle di sapone nel mondo avvengan delle cose e una conoscenza minima di quello che sta avvenendo bisogna averla ma non per fare il test di design ma per essere degli esseri umani per differenziarci un poco dai nostri cagnolini se no siamo quella roba lì quindi quello che è mediamente si pensa che un diciotto ventenne debba sapere che poi della conoscenza contemporanea un diciotto ventenne ha le stesse possibilità di un sessantottantenne di saperle la contemporaneità la si vive contemporaneamente sia che si che si abbia vent'anni sia che se ne abbia ottanta allora gli ambiti gli argomenti su cui voi vi troverete le domande sono storia del novecento diciamo così potrebbe anche esserci qualcosa di più antico ma tendenzialmente mi viene da dirvi una storia più contemporanea è vero che canonicamente la storia contemporanea comincia con il congresso di Vienna del 1815 e finisce del novecento o lì attorno l'unità d'Italia del 1861 per cui insomma educazione civica educazione civica significa non andare a frugare nei nascondigli più remoti dei manuali non è che vi si va a chiedere cosa dice l'articolo 25 della parte terza del codice civile sarebbero dei folli chiedervi una roba così però che ci siano delle monarchie che ci siano delle repubbliche che ci siano che l'Italia sia una monarchia ecco sapere queste cose sapere che cos'è un codice civile insomma degli elementi minimi che si dovrebbero che si dovrebbe aver fatto in educazione civica da qualche parte nel corso dei vostri cinque anni domande di letteratura italiana barra inglese l'educazione civica vi turba perché non l'avete fatta mai beh se non l'avete fatta anche qui ecco poi vado avanti a farvi l'elenco delle possibili discipline mettervi a fare mettervi a fare quesiti di sui famosi test che trovate online o in libreria di cultura generale secondo me non ha molto senso cioè se comprate quei test lì per Matteo forse non ha senso neanche non lo so non mi avventuro in settori che non mi competono ma i potenziali inquisiti sono infiniti quindi piuttosto che sprecare tempo non dovete mica prendere la patente piuttosto che sprecare tempo a fare dei quiz perché non vi prendete un buon compendio non dico il bigino ma a volte funziona anche quello un buon compendio di non volumi infiniti di storia o di educazione civica e vi leggete e vi imparate alcuni concetti fondamentali magari non rispondete alla domanda del test ma male non vi fa perché imparate tre cose cioè magari non c'è nessuna domanda nel test su quella roba lì ma perlomeno avete imparato tre cose se poi c'è anche la domanda siete anche fortunati insomma letteratura italiana barra inglese anche lì non credo che qualcuno vi chieda che cosa ha scritto Domenico Guerrazi direi insatto che non avete neanche mai sentito a meno che non abbiate qualche insegnante folle che vi fa leggere Guerrazi non io non ancora però insomma state su autori grossi direi il che non vuol dire che però di che ne so Cesare Pavese vi si chieda semplicemente la luna e i falò ha scritto anche altro è Cesare Pavese sì Foscolo ha scritto i sepolcri ma ha scritto anche qualcos'altro un minimo di conoscenza come dire sempre per separarci dal nostro cagnolino ecco letteratura inglese qualcosa sì anche lì autori che hanno senso dopo vediamo una domanda e autori che possono avere senso allora vi ho detto storie educazione civica vi ho detto lingua letteratura ecco lingua italiana ci sarà qualche domanda di lessico e qualche domanda di chiamiamo ortografia barra grammatica ortografia è una parte della grammatica insomma ma ortografia adesso vediamo un esempio sarebbe per voi abbastanza un orrore formulare scrivere in vostri esami nella vostra tesi qualcosa con errori di ortografia un minimo di decenza ecco per cui alcuni elementi sistemateli per esempio in quale di queste frasi manca un apostrofo nella prima e nella seconda no e nella e nella e no bravi perché non manca l'apostrofo nella b e nella e perché quale va sempre senza apostrofo perché la forma qual è un troncamento esiste di suo che è lo stesso motivo per cui un maschile non si apostra non è che gli articoli determinativi sono tre due per il maschile e uno per il femminile un uno allora il principio economico delle lingue ci impedisce di fare una roba perché dovrei prendere uno togliere la o mettere un apostrofo davanti a una parola che comincia per vocale ho la forma un prendo quella faccio un'operazione sola per il femminile non ho ho solo un articolo che è una e allora sono obbligato a dover fare l'elisione e mettere l'apostrofo qual è un troncamento qualcuno l'aveva detto cioè vuol dire che esiste quella forma lì la prendo e non metto l'apostrofo tradizione è un sostantivo femminile il suo articolo è una tradizione c'è un aggettivo che comincia per vocale gli aggettivi nella lingua italiana concordano in genere numero con il sostantivo di riferimento per cui quell'aggettivo lì diventa femminile perché è concordato in genere con tradizione e devo mettere una una antica tradizione un'antica tradizione la stessa cosa non avviene là in fondo perché c'è un accordo accordo è maschile non lo faccio qualche dubbio poteva venire però siete ragazzi intelligenti la Filippo Tommaso Marinetti chiamava l'automobile un automobile perché nel manifesto del futurismo bisogna abolire generi punteggiature e quant'altro quindi il genere non esiste più e si scrive così ma poi al di là di sapere quello lo capite anche dal fatto che è tra virgolette e allora se io cito una persona che sbaglia se faccio un saggio scientifico faccio l'errore apro una parentesi e ci scrivo sic per dire guardate che non sono io che ho sbagliato è lui così è così e io lo riporto così d'accordo? qui non è un saggio scientifico e quindi tra virgolette vi si dice se lui lo scriveva così mica lo devo andare a correggere è chiaro? troverete probabilmente ci possono essere domande di questo tipo stateci attenti se qualcuno di voi ha dei dubbi il solito manuale del biennio nella parte ortografia e quant'altro vi può essere utile e ognuno di voi sa se ha problemi oppure no davanti a questi aspetti allora per la comprensione verbale la risposta sta nel testo non dovete fare riferimento a nulla di quello che sapete anzi a volte può essere rischioso rispondete in base a quello che vi dice il testo non in base a quello che sono le vostre conoscenze non in base a quella che è la vostra enciclopedia invece per la cultura generale è fondamentale che voi vi appegliate alle vostre conoscenze poi dovete comunque fare un ragionamento ma appellatevi alle vostre conoscenze se no rispondere alla prima domanda che avete qui non è così semplice peraltro non è neanche una vera e propria domanda la Norvegia è e allora siete obbligati a leggervi tutti i punti e vedete che ci sono tre o quattro elementi per per opzione la risposta è giusta quando tutti gli elementi dell'opzione sono giusti un elemento anche solo un elemento su quattro sbagliato rende sbagliata la risposta allora qual è la risposta giusta la C o la o la A sì sì anche l'altro ieri le alternative erano quelle cioè ciò che vi crea problemi è se è una monarchia o se è una repubblica immagino ah no no c'è quell'altra cosa allora no la volta scorsa era A o B no la C è sbagliata per due opzioni su tre la Norvegia non è uno stato membro dell'Unione Europea è uno dei pochi stati europei a non far parte dell'Unione Europea ha diritto a Schengen ma non è nell'Unione Europea l'alternativa sta tra monarchia e repubblica quindi la Norvegia è una monarchia la Norvegia è una monarchia praticamente da sempre prima di essere la Norvegia è un paese molto antico si definisce si forma intorno al settecento bassissimo altissimo medioevo poi viene dominata da svedesi e da danesi acquista l'indipendenza credo intorno al 1800 ma rimane una monarchia costituzionale però quindi avete un premier un parlamento e quant'altro ma è una monarchia quindi monarchia stato dell'Europa settentrionale e questo va beh insomma bastava la E non c'era bisogno neanche di andare avanti a leggerla stato dell'Europa meridionale uno la smette che non fa parte dell'Unione Europea e la cui valuta è la corona norvegese un altro consiglio che posso darvi ci sono due possibilità per rispondere a una a un quesito quando il quesito è formulato come un'interrogativa diretta come una vera e propria domanda rispondete fateci un ragionamento aperto rispondete come se fosse una domanda aperta cioè se io vi chiedo qual è la capitale dell'Argentina non state lì a guardare le opzioni che vi do perdete del tempo lo sapete e quindi dite ok Buenos Aires vado a cercare le opzioni sotto faccio una crocetta e me ne vado alla successiva non lo so può succedere se non lo so allora passo a cercare le combinazioni se mi trovo in quella domanda lì Brasilia dirò vabbè non è questa la capitale del Brasile se mi trovo Delhi dirò è la capitale dell'India se mi trovo Bogotà dirò è la capitale della Colombia a quel punto può darsi che non riesca a fare tutti gli accoppiamenti ma perlomeno ne ho esclusi un po' quindi se rispondo come se fosse una domanda aperta trovo immediatamente la risposta e passo se non so rispondere a domanda aperta allora vado a vedere le opzioni e cerco di eliminarne il più possibile a un certo punto posso anche incepparmi ma riduco la scelta a due o a tre che non significa scegliere su cinque insomma un'altra cosa aggrappatevi anche per quel che potete dipende che superiori avete fatto insomma alle etimologie per esempio rispondere a che cosa si intende per prototipo basterebbe anche semplicemente capire da che cosa è composto protos che vuol dire primo e tipos che vuol dire forma prima forma a sto punto la risposta giusta sarà B primo esemplare è chiaro che è ancora modificabile quant'altro ma non è un modello il modello credo che stia prima del primo esemplare in sostanza il primo esemplare è già la realizzazione di qualcosa che poi vado a poter eventualmente collaudare perfezionare ma è già definito prototipo è sinonimo di archetipo il più vecchio il primo da cui poi discendono le altre cose un'altra domanda che vi può aiutare stereoscopia al di là di guardare sotto secondo voi da che cosa è composta quella parola lì escopein che vuol dire nessuno arriva dal classico no no lei e non si ricorda cosa vuol dire escopein demoscopia indagine demoscopica non vi dice nulla demos vuol dire popolo e scopein la solita cosa vuol dire osservare quindi stereos vuol dire in rilievo guardate che non è nient'altro che il 3D la stereoscopia e quindi tecnica di realizzazione di immagini che consente la percezione della profondità la profondità la percepita in grazie al rilievo quindi vedo la profondità perché mi da rilievo le altre opzioni tendono in qualche modo a confondervi le idee perché la parola più credo insomma più usata con stereo dentro è legata alla musica stereofonia e quant'altro però c'è phonos che è suono e non so cosa pensiate di impianto stereofonico ma mica vuol dire che è su due lati vuol dire che rende il suono vivo perché stereos rimane sempre quella roba lì ultima cosa che guardiamo e poi ce ne andiamo una domanda che può sembrare complessa che però a me piace molto perché in qualche modo riassume un po' tutto il discorso di che cos'è la cultura generale per rispondere a questa domanda ci sono vari modi vari modi allora vi dice di combinare dei romanzi con degli autori le possibilità sono tante la prima e più ovvia è ho letto i romanzi sono cinque e li vado a combinare con i loro autori ci sono romanzi che avete letto tra questi cinque nessuno in ogni caso ragioniamo un attimo su questi termini Lolita certo è stata scritta da Nabokov allora uno ha letto questo libro è d'accordo però uno può benissimo non aver letto il libro ma magari ha visto il film di uno dei più grandi registi nella storia del cinema Kubrick e Kubrick ha fatto un film tratto da questo libro e quindi uno si guarda il film ma alla fine lo trova gli verrà in mente dopo il film di Kubrick c'è stato un remake nel 90 perdonatemi se dico una scemenza 96 97 di Lolita un po' più vicino il film di Kubrick è degli anni 60 un po' distante da voi ma quello del 97 è un pochettino più vicino ma oppure e la possibilità è uno ho letto il libro due Kubrick tre ho visto il remake quattro Lolita è un sostantivo se voi andate a casa aprite il vostro dizionario e cercate Lolita trovate il sostantivo che è uno dei pochi casi ma non sono così pochi che un libro diventa così importante che crea genera un sostantivo Lolita vuol dire quello che è il film o il libro le indica le capacità seduttive di una adolescente sei una Lolita questa roba qua Furore Furore è un libro di Stanbeck Furore è un libro fondamentale nella letteratura americana ma anche nella letteratura italiana Stanbeck è uno degli autori che grazie alle operazioni di Pavese e di Vittorini trasforma modifica sprovincializza la nostra letteratura è un libro del 33 e l'argomento è evidentemente la crisi economica del 29 questo paese l'America devastato e distrutto dalla crisi del 29 e racconta la vicenda di questa famiglia di questo protagonista che si chiama Tom Jod qualcuno di voi magari ascolta musica Bruce Springsteen ha fatto un disco che si chiama The Ghost of Tom Jod che magari qualcuno di voi conosce qualcuno di voi l'ha sentito lo conosce nessuno ascolta Springsteen lei e non conoscete questo disco lo conosce e si è chiesta chi è Tom Jod no male Tom Jod è il protagonista di Furore e Springsteen fa questo disco che non parla di furore ma parla dell'America contemporanea ma presenta l'America contemporanea come un paese in crisi con una differenza pazzesca tra ricchi e poveri e allora il fantasma di Tom Jod che continua ad alleggiare per l'America adesso gli altri voi non avete non ascoltate Springsteen ok la signorina forse doveva poteva chiedersi perché Tom Jod in ogni caso Steinbeck è stato tradotto non questo libro ma tanti altri libri di Steinbeck da Pavese e da Vittorini Vita e opinioni di Tristram Shandy Lawrence Stern vi dirà poco forse Stern ma è l'autore inglese che più ha influenzato grandi autori della nostra letteratura forse al liceo vi siete imbattuti in riferimenti a Stern Foscolo che traduce il Sentimental Journey di Stern ma anche Svevo che si ispira il corto viaggio sentimentale di Svevo è come dire un ispirato a Stern ma Pirandello la dissoluzione del romanzo questo autore inglese è un autore tremendamente all'avanguardia nel Settecento fa un romanzo che è questo qui che è un non romanzo che è la distruzione della forma romanzo ci sono pagine bianche ci sono capitoli che mancano ma volutamente scrive il capitolo 13 poi scrive il capitolo 17 ci sono pagine in cui c'è una sola parola ci mette dentro i bigliettini della moglie cioè è veramente la dissoluzione del romanzo nel Settecento Pirandello con uno nessuno centomila che è comunque un romanzo di dissoluzione più che di dissoluzione del romanzo la dissoluzione dell'io del protagonista Vitangelo Moscarda ha come riferimento Tristan Shandy di conseguenza vabbè l'uomo no ma l'uomo l'aveva desunto non perché lo conoscesse l'uomo senza qualità Robert Musil è un po' la bibbia del una delle tre quattro bibbie del novecento l'inettitudine del personaggio portato a personaggio l'uomo che non ha nulla per essere eroe ma che è l'identità del novecento un libro incompiuto in tre parti del 33 del 30 33 la prima ma che diventa proprio un fondamento e invece poi ultimo cecità Saramago gli autori portoghesi Saramago è morto 2010 Nobel nel 98 un autore portoghese è stato tratto un film anche da da questo libro gli autori portoghesi famosi non sono tantissimi Pessoa e Saramago fondamentalmente Saramago è contemporaneità pura ecco insomma potevate rispondere in vario modo questa è cultura generale in sostanza grazie a tutti